signori benvenuti in una nuova puntata della mechanical mastery ragazzi troviamo in una compact machine ovviamente perché io ho fatto questo allora questa turbina in questione a 13 no 11 x 11 x 13 di altezza quindi più alta che larga e profonda abbiamo una creative che chemical tech questa turbina genera potrebbe generare 13 milioni di rf su tic ma c'è un ma è piena d'acqua non so perché io ho provato comunque meccanica pipe dovrebbe essere per i fluid però non si attaccano non so perché e lo scritto gli ho messo a dumping gases però verte se io metto l'aspetta se io metto idle steam input 0 ok non stai generando faccio dumping gases ok vabbè che carica stracarica ma a manetta tipo abbiamo 10 miliardi no giga non so che numero siano ragazzi penso siano allora k e mille milioni quindi si giga dovrebbe essere miliardi quindi su questo 10 miliardi di energia penso che vadano abbastanza bene caricati in praticamente due secondi però il problema ragazzi è che non riesco non so perché non riesco a togliere la l'acqua allora proviamo con i fluid pipe neanche questi si si attaccano allora la valvola della turbina questa shift n transfer energy e steam ma è da dove la tiro fuori l'acqua ma non è che la tiravo fuori da da qui sopra angelo si chiamava ecco da dove si tira fuori va bene va bene va bene ah la tira fuori in automatico e facciamo così nulli fire e ciccia qui dovrebbe in ogni caso togliere tutta l'acqua che c'è dentro qua non ce n'è perché è come se avesse acqua dentro non mi vorrei dire che lo devo fare da ogni da ogni singolo non credo no sembrerebbe di no boh non ci ho capito niente non ci ho capito granché però facciamo così direttamente con il pipe della pipe e ci mettiamo non questa grazie se andava a buttare dentro tutto quello che non ci serve effettivamente pipe upgrade questo qua perfetto 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 poi shrinking device così almeno riusciamo ad uscire dalla o non lo so vabbè vedremo abbiamo qua il plug per l'energia possiamo uscire possiamo uscire intanto mi il sorseggio una buona ragazza la schiuma della piazza che bontà allora lì raga abbiamo effettivamente demolito tutto la piattaforma la lascerei perché ancora non so se effettivamente allora questo è vuoto tu ti stai svuotando quindi ok perfetto molto good allora cosa ci rimane da fare in questo pacchetto bellissimo e fantasticissimo innanzitutto togliere tutta questa energia prodotta gratis e passivamente quindi la togliamo completamente in modo che comunque la turbina riesce a riesca riesci riesca a generare tranquillamente andiamo a vedere statistiche controller 1 plugs 3 perfetto perfetto quindi noi stiamo consumando 70 mila vabbè nell'ottica di 10 milioni penso che siamo abbastanza a posto qua abbiamo 324 stack di antimatter quindi siamo abbastanza a pace ok ah tra l'altro raga vi faccio vedere la magia la dimension card che effettivamente non ha sonzata non so perché non l'avessi ancora craftata molto bene allora singolarità quindi per fare questa ci serve innanzitutto la questo questo trafti qua per fare questo ragazzi serve questo ok quindi possiamo richiederla una al volo vediamo quanto tempo effettivamente ci mette a craftarla crafting tutto quanto che aspettiamo un attimino è vero la luminescence raga la crafta qua la crafta lì e vabbè dovremmo aspettare ragazzotti però ragazze ditemi se non è bella questa cosa c'è se non è se non è figa ditemi se non è bella cioè ragazzi è qualcosa di fantasticissimo e abbiamo la crafting table ovviamente ultimate ok io andrei a vedere singolarità quante singolarità di quante singolarità ne abbiamo bisogno di una ah no è una per ogni final star quindi effettivamente forse dovremmo fare un auto crafting madora 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 e poi un crafting stronzo perché non fare filtri ok tutto quello che volete però mechia che polle col mechanical crafter ma vaffanculo ma veramente 45 poi ne vuole ne vuole 45 qui dovremmo per forza di cose fare un altro windmill e dedicarlo solo a quello va bene non è effettivamente urgente adesso perché adesso ci serve solamente una singolarità ultimate quindi per fare l'ultimate singolarità abbiamo bisogno di tutte queste singolarità che noi effettivamente possiamo anche automatizzare no però c'è un però possiamo dirgli effettivamente come fare tutte le cose come auto craftarle cioè effettivamente lui potrebbe prenderle dalle risorse già accumulate il che potrebbe anche essere una buona cosa ma potrebbe anche non esserlo però prima di tutto dobbiamo vedere come fa le singolarità quindi abbiamo il bronze la bronza singolarità allora vabbè scusa ti metto di là così non ti perdo questo possiamo toglierlo c'è la bronza l'elettrum l'invar lo steel la pislazzuli l'uranio lo smeraldo il coal zinc e nickel e così via e così via e raga potrebbe essere allora effettivamente una cosa che io non ho provato è a fare questa cosa qua aspettate un attimo adesso ne craftiamo due al volo ok allora questa è la velocità diciamo ah ma non c'ha un component ma do mica modo deve fare tutto questo a caso va beh gli facciamo fare anche il component aspettiamo per il component nel frattempo però gli diamo questi ah però lui c'ha effettivamente c'è i pannelli solari attaccati ragazzi ah vabbè in teoria potremmo fare nitro tre o mettergli effettivamente questo solar panel e mettergli questi tre oh mio dio ah che belle raga un'altra compat machine per automatizzare la singolarità ragazzi serve assolutamente fare allora io direi di mettere il crafting proprio della compat machine no? quindi così e poi così e poi così perfetto così almeno ci togliamo lo sfizio allora si craftamene una grazie molto molto gentile allora non ci serve il effettivamente il come si dice ehm i solar panel adesso adesso possiamo fare ah a proposito direi di mettere fitogenic insulator l'autocrafting grazie eh non hai l'autocrafting del machine frame strano e non hai manco l'autocrafting delle team gear molto weird questa cosa va bene te la piazzo immediatamente così almeno siamo più tranquillerimi allora compact machine molto bene allora noi possiamo andare effettivamente dove vogliamo allora metterei ovviamente un bel autocrafting anche del ehm l'MK2 che non ho voglia assolutamente di star lì a perdere tempo a craftarlo io a mani quindi lo autocrafteremo energy condenser MK1 alchemical chest medium covalence dust e la low covalence dust molto bene mettiamo tutto qui dentro e possiamo andare ovviamente qui dentro allora 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 quindi a noi ci serve effettivamente prima di tutto singularity facciamo così e le mettiamo tutte tutte quante di là perfetto e abbiamo messo vi ricordate la tecopolis 2 no? dove abbiamo automatizzato il basic technium l'advanced technium l'elite technium eh oggi succederà una cosa simile però il problema è che effettivamente ho fatto tutti i conti senza l'hoste perché per fare una singolarità ci serve il quantum compressor questa cosa qua che effettivamente autocraftiamo tutto quanto ci mancava solamente un pezzettino quindi va bene così perfetto molto bene ragazzi allora prima di tutto glowstone singularity possiamo già iniziare ad automatizzarla mk2 quindi facciamo ma non so 20 dai ok perfetto poi compressor queste sono quante sono? sono 9,9,18 e 1,19 quindi noi dobbiamo fare 19 perfetto e iniziamo a mettere l'autocrafting poi mi serve ah effettivamente raga mi serve anche l'autocrafting dell'induction smelter perché dobbiamo mandare perché dobbiamo mandare no qui perché dobbiamo mandare effettivamente il tutto a smeltarsi all'interno della della cosa dell'induction smelter quindi innanzitutto dobbiamo mettere questo crafting di qua e questi di qua molto bene rientriamo qui dentro allora innanzitutto fitogenic insolito e questi ne chiedo 30 giusto per un numero per iniziare no una cosa base molto bene induction smelter ne abbiamo già due poi nel craftiery 30 lo stesso giusto per per averli no facciamo così ah ecco me li stava già dando perfetto quindi facciamo numero tondo ok poi poi poro pompero però component questi component me ne serve uno stack quindi me li fai così time di questi me ne servono ovviamente tre stack ragazzi ma ve lo ricordate prima quando ci stavamo facendo ah ma questo crafting ah ma questo crafting è un casino dobbiamo fare questo adesso ne ho chiesto tre stack ok non ci metterà due secondi ragazzi ma non ci serve neanche subito quindi allora facciamo fitogenic insoleto lo mettiamo di qua gli diciamo guarda ah no però aspetta ragazzi c'è un però allora dobbiamo metterlo qui sopra mechanical pipe tank molto bene quindi iniziamo a mettere prendi da sotto qua prendi e mandi via e qua mandi solo via molto bene molto bene facciamo passiamo un bel tubercolo in questo modo configurato questa sarà la nostra fonte di EMC ragazzotti molto bene qua è su empty very good qui ovviamente dovremmo metterci l'energia very well facciamo bypass limit perché l'energia consumata sarà tantissima e poi facciamo in questo modo qua quindi ci mettiamo drawer questo drawer qua anche non è non è assolutamente un problema una bella chiavetta e quanta flintai perfetto questa la buttiamo qui dentro prendiamo una mela e ovviamente lo hack log poi facciamo sapling ne abbiamo possiamo prenderne quanti no aspetta si 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 no è giusto quindi questo qua questo qua questo qui dentro e lui inizia a farmare poi di qua invece andiamo a metterti ovviamente anzi facciamo proprio così in modo che lui lo riprenda dentro che è perfetto e poi facciamo pipe ma in realtà non ci servono quelle linee di rita anche queste vanno più che bene facciamo così facciamo così e facciamo così perfetto un pezzo di glowstone e lo mettiamo di qua molto bene ora component me ne è fatta almeno uno la risposta è no time non me ne ha fatto neanche uno vabbè possiamo aspettare ragazzi non è non è assolutamente un problema nel frattempo però settiamo il tutto e quanto allora qua ah compresso questi me li hai fatte grazie più il extended crafting più questo ok ragazzotti allora dovremo madonna dovremo avere i 64 componenti componente perfetto molto molto buona questa come cosa facciamo così ovviamente un due tre ah però e beh certo se noi non acceleriamo ovviamente non ha senso ovviamente allora siamo devo fare un due tre blocchi giusto di altezza in realtà possiamo veramente spammarli come non mai però non cioè non so se lo faremo vediamo 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 per il momento ne mettiamo tre che è comunque un ottimo numero no vediamo beh mi hai mentito mi hai mentito pezzo di merda e ho capito ma scusami ciccio 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 guarda 16.000 ti becchi 16.000 RF su Tic e non ce la fai oh vabbè diciamo anche che la velocità con cui sta facendo le cose mi può anche andar bene non è che per forza di cose dobbiamo dobbiamo effettivamente essere scontenti però devo dire la verità mi aspettavo una cosa migliore di questa con perché o ti dice mettine uno allora proviamo a disattivarne due segno ok due secondo me il numero migliore e mi stai consumando 11.000 a macchinario vabbè vabbè però due raga due cazzarola aspetta un attimo e questo ha raggio di 4 quindi mi va bene per 4 no per 5 in realtà per 7 no per 9 scusate perché se lo mettiamo al centro ovviamente se noi ci spostiamo che ne so facciamo pedestal ci spostiamo adesso di 1 2 3 e 4 e li mettiamo ovviamente qui dovrebbero comunque avere effetto anche su quello su quel fitogenic insoletto vediamo perfetto quindi poi nel caso ovviamente non raggiunga per esempio adesso noi dovremmo metterlo in teoria 1 2 3 4 allora 1 2 3 4 1 2 3 4 ok in teoria l'avrei dovuto mettere qua però mettendolo di qua purtroppo interagisce con un fitogenic insoletto che sta qua o si potrebbe tirare indietro di uno cioè mettere qua e vi spiego il perché 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 praticamente se lo mettiamo se facciamo come stavo facendo adesso no praticamente lo mettiamo lì in poche parole lui interagisce con cioè questo arriva fino 1 2 3 e 4 fino a qua quindi interagisce fino a questi macchinari mentre questo 1 2 allora facciamo una cosa 1 2 3 4 1 2 3 e 4 vedete così in poche parole sono tutti che sono hanno l'effetto tutti i macchinari se io avessi lasciato questi qua c'è una praticamente si sarebbe stato un macchinario che aveva l'effetto di 4 clock capite perché si incrociava e si sarebbe stato un problema mentre così effettivamente non è un problema guardate la Gloston come cammina veloce allora mettiamo pure il fitogenic questo gli chiediamo come si chiama catalyze ok gli chiediamo altri 18 di questi che ci serviranno ovviamente per i prossimi lo mettiamo di qua mettiamo limite di input e poi facciamo ovviamente BIM non so se effettivamente non lavori vero? quindi dobbiamo dare l'energia va bene non è non è effettivamente un problema fammi 128 beh cos'è almeno molto bene meglio ioni se l'enterrimo posso metterti un bel clock però siccome meglio prevenire che curare te li piazzo qui sopra e comunque non dovrebbe però aspetta perché bisognerebbe vedere un attimino allora vediamo ok una me l'ha fatta tu come sei messo buono mi fa ridere perché raga ovviamente non si può accelerare perché se no non avrebbe senso è come se tipo avessi messo più watch of the flowing time bene ragazzotti allora abbiamo fatto abbiamo automatizzato la glowstone singularity adesso abbiamo bisogno della redstone singularity per fare la redstone ovviamente il metodo migliore è l'enrichment chamber secondo me perché se andiamo a vedere l'induction smelter ci dà anche altre cose quindi meglio 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 andare di enrichment chamber enrichment chamber tra l'altro enrichment chamber che effettivamente possiamo prendiamo da sinistra prendiamo via da destra possiamo automatizzare meglio del come si chiama ok tu non hai preso niente drawerini iniziamo col finire ovviamente tutti i drawer che abbiamo dentro ok poi vuoi da upgrade allora sono rotto anche il cazzo 10.000 di ossidiana facciamo prendiamo questa facciamo così così perfetto uno ah perché non ho quei cosi lì va bene facciamo così prendiamo ovviamente uno di questi fitogeniche in solito diciamo prendi da sotto sempre alla solita maniera e ovviamente gli mettiamo questo poi questo e poi non so se ne ha fatto altri che bellezza ragazzo oh mio dio questo è effettivamente l'effetto very well vediamo ah molto bene redstone no questo così ah ma tu altro che automatizzato in maniera migliore questo è stronzo la meccanismo è stronza proprio allora facciamo così facciamo anche così tranquillamente gli diamo l'energia upgrade e ovviamente l'output però ce l'hai diciamo in maniera effettivamente migliore allora facciamo così mi 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 ah molto better molto 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 better e anche la redstone la possiamo mandare in pensione perfetto ah ma l'errageman chamber subisce effettivamente l'effetto allora no non mi piace questa cosa facciamo uno due tre e quattro e lo mettiamo lo mettiamo qua per il momento facciamo così in modo che lui possa interagire con con loro ma non con ah 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 eh si draw void upgrade facciamo così ne chiediamo 128 grazie quindi mettiamo prima il drawer molto bene no no coglione questo così non coglione questo no coglione questo va bene posso mettere perché non fai uscire ah perché stai facendo così lentamente no ah beh intelligente guardate dove l'ho messo il telestal io adesso eh così no non mi piace come velocità non mi piace proprio facciamo così perché allora lui non dovrebbe ah da lui si da lui da loro e vabbè allora secondo me per non rischiare di fare danno ci conviene metterli di qua è tutto un provare raga è tutto un provare ecco perfetto perfetto quindi upgrade poi iniziamo a fare tier dai devo dire c'è ma no raga ma stiamo scherzando cioè guardate la redstone come sale come sale madonna 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 pensavo che effettivamente avessi avuto cioè potessi avere dei problemi con la redstone invece no molto bene molto bene allora possiamo togliere quella della redstone l'abbiamo già fatto l'alluminio l'alluminio lo teniamo dalla red dalla boxit boxit che possiamo processare all'interno del richard chan no grazie grazie ma no grazie preferirei lavorarlo con una redstone furness anche se è tipo una diciamo un errore tra virgolette però sti gazzi quindi raga taglio un attimino sistema un paio di singolarità ci vediamo fra un po' e si raga è passato un po' di tempo circa un'oretta più o meno e abbiamo questo agglomerato di macchinari no abbiamo siamo arrivati fino al lapislazio lì mancano solo 4 da automatizzare e sono quelle un po' più rompiballe perché abbiamo lo still l'inval elettrum e il bronzo ogni singolarità ha bisogno di ben 2 lingotti quindi avremo bisogno di fare per ogni singolarità di queste di questo tipo almeno 2 fitogeni chinzoletto quindi siccome ne abbiamo 4 da fare dobbiamo fare altri 4 di questi cioè io in realtà avevo fatto il conto per quel totale però ci conviene farne dedicarne uno per ogni materiale e poi andare a collegare tutto l'impianto bene questo l'abbiamo capito allora lo still dimmi che c'è quel crafting strano cazzo però il cock colpirò l'ice dai tutta questa roba madora allora iniziamo dallo stile così ci leviamo di dosso subito quella cosa la cosa più fastidiosa e vatela pigliando il culo vai così dai così proprio di giustezza allora andiamo a togliere ovviamente andiamo a far uscire tutte queste cose e mettiamo 1 e 2 quindi nel primo andiamo a mettere il coal nel secondo andiamo a mettere il ferro quindi iron e coal quindi primo abbiamo detto coal il secondo il ferro facciamo anche così lo brucia non lo dobbiamo riprendere perfetto ora il coal deve passare per forza di cose nel pyrolyzer perché se no non funziona cioè non non mi fa lo steal quindi cosa gli diciamo innanzitutto togliamo questi e mettiamo questi nettamente meglio no facciamo in questo modo ah però lui c'ha anche il problema del vabbè lo possiamo farlo andare da so cioè possiamo farlo andare sopra in teoria giusto quindi tipo se noi facciamo prendi gli oggetti dassini merda dobbiamo fare il coal il coal dobbiamo fare prima non il coal il coal oh merda allora raga qua ci sta fare una cosa del genere no facciamo così quindi prendiamo il coal qua sopra andremo a buttare drawer con questo drawer qua le rich slug quindi facciamo così le blocchiamo e ciccia facciamo in questo modo gli diciamo esci da sopra e questo mettiamo di qua perfetto dove ah no non riesce a mandarmelo fuori perché effettivamente c'ha ancora questi upgrade stupidi perfetto quindi il coal deve andare in automatico dentro il pyrolyzer perfetto quindi mi fa il pyrolyzer e abbiamo il tar da buttare anche quindi non abbiamo solo il creoso toil allora il nullifier dovrebbe prendere sia oggetti che effettivamente anche liquidi quindi andiamo a fare così autocraftiamo il vetro e facciamo il nullifier perfetto poi filtro poi filtro non quello questo grazie molto molto gentile iniziamo a metterlo qui sopra poi mettiamo l'upgrade del filtro molto bene e gli diciamo che qua sopra deve finirmi solamente il tar quindi se noi facciamo così destroy item ok mentre se noi facciamo così dovrebbe uscirmi anche il creoso toil perfetto perfetto quindi dobbiamo mettere un induction smelter di qua per poter fare anche il il ferro vediamo ok perfetto poi questo upgrade questo upgrade molto bene facciamo così rock drawer lo blocchiamo ovviamente e andiamo a metterci solo le nickel nugget pin poi void upgrade questa l'ho messo no ecco sto per fare la cazzata diciamo così qui dovrebbe mandarmi perfetto quindi abbiamo sia il core cook che io in realtà potrei anche girare in questo modo quindi gli oggetti non li prendi li prendi da dietro e li mandi via a sinistra perfetto qua ci mettiamo un bel induction smelter in questo modo prendiamo gli oggetti da dietro e da sinistra perfetto facciamo così e così poi mi servono guardate bene che non mi fido io della thermal mi servono questi slot seal quindi due me ne servono infatti uno e due perfetto andiamo a fare così e lui dovrebbe fare lo steel in maniera molto molto rapida poi qua facciamo uscire il tutto in un quantum compresso e abbiamo automatizzato anche quella dello steel molto bene ragazzi molto 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 bene ora madonna ragazzi madonna ragazzi cioè veramente a me piace un sacco fare queste cose però quando diventano ripetitive dopo un po' mi stancano ragazzi ovviamente interrompo vi ho fatto vedere lo steel gli altri sono più semplici perché comunque abbiamo invar elettrum e bronzo che vogliono essenzialmente due lingotti quindi non abbiamo bisogno nemmeno di fare il pyrolizer a più tardi uuuu raga madonna madonna sto lacrimando sto lacrimando mamma mia allora 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 abbiamo automatizzato tutto ci manca solo ad automatizzare il lay in poche parole shapeless recypr le quattro crafting table ok però dovrebbe esserci l'ultimate auto crafting table che vuole il crystal line ok lo vogliamo effettivamente automatizzare oppure ce ne freghiamo altamente le palle e facciamo in modo che tutto vada dentro un ender chest e in poche parole noi andiamo poi a prendere le cose si possiamo effettivamente fare così e ce ne freghiamo altamente le scatoline ma non peraltro ragazzi perché non ha alcun senso che andiamo a fare come si chiamano che andiamo a fare direttamente le cose automatizzate soprattutto l'ultimate singularity possiamo mandare magari tutto in dei drawer direttamente in modo che praticamente non ci sia neanche più non ci sia neanche il problema diciamo e possiamo anche trovarle immediatamente le cose no? quindi facciamo così 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 vabbè ragazzi qua non c'è penso che ci sia il bisogno di spiegarlo no? bronzo copia e tin elettrum silver e gold e infine livar ferro e nickel stesso impianto ragazzi non c'è il drawer che voidizza ovviamente diciamo l'oggetto in più quindi quello che non ci serve le nugget dei vari materiali che in teoria potrebbero anche essere importate a casa però raga secondo me non ha neanche senso andare a far ma non è che nickel iron iron ah questo fa lo steel questo fa l'imbaro ok no 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 dovrebbe essere abbastanza ok si 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 sta sta craftando sta craftando ok quindi andiamo a ovviamente far uscire tutte le singolarità che penso che possiamo far uscire anche così direttamente molto bene bim e bim è perfetto andiamo a ciancare il tutto che è già stato ciancato e possiamo uscire da qua che bellezza che bellezza andiamo a vedere il frutto ovviamente di tutto il lavoro svolto fino ad adesso singularity pensavo meglio pensavo effettivamente meglio allora prendiamo questi drawer qua allora ci servono 19 spazi quindi 19 quindi quasi 20 quindi 5 drawer ci bastano drawer controller infine bim e bim facciamo storage bus o esterna storage quello che è molto bene e lo mettiamo possiamo mettere anche di qua tanto non occupa troppo spazio guardate una cosa molto molto easy poi key bim bim e un cavetto ecco qua qua gli diamo ovviamente la priorità di 250 miliardi così in modo che lui mandi le cose ovviamente di qua poi void upgrade ragazzi anche se me le voidizza alcune singolarità non mi interessa singolarità perfetto prendiamo tutte quelle che abbiamo molto bene iniziamo redstone iron bronzo glowstone tin inva silver diamante nickel allora qua c'è la silver la mettiamo qua la nickel lapiscazzolo alluminio coal ah però aspettate ragazzi dobbiamo facciamo una cosa del genere prima ecco prendiamo e gli diciamo only work with redstone signal in modo che non importi più singolarità perfetto così in modo che almeno quelle che di cui abbiamo il filtro per esempio la copper non ce la le famo ancora ok quindi possiamo fare adesso così dare ovviamente una una bella che non funziona una bella priorità alta qua ovviamente gli diciamo ignorare il redstone signal perfetto perfetto allora ci mancano alcune singolarità è vero che le sta ancora facendo quindi magari non ci possiamo fare niente quando le avremo tutte ragazzi potremo craftare ovviamente la ultimate singularity qui dentro ragazzotti finalmente abbiamo tutte le singolarità possiamo fare in realtà mi si è bloccato l'impianto perché praticamente non avevo no uno stack grazie non avevo messo dei void upgrade in alcuni in alcuni cose in alcuni drawer però vabbè dai siamo riusciti ugualmente a farne un bel po quindi prendiamone uno stack di ognuno o quello che possiamo prendere più o meno quanto comunque ultimate singularity non ce ne serviranno parecchie quindi effettivamente quell'impianto lo potremo usare per farmare gli MC poi quindi andiamo qui dentro facciamo così e per capare di letto non va bene abbiamo sei ne abbiamo sei ma ho messo che pioveva no metti ok tanto non si cambia ok final star final star final star final star questo potrebbe essere più una rottura di coriandoli ragazzotti allora va bene abbiamo le ultimate singularity no io direi di richiedere il tanto giusto che ci serve per fare ovviamente le varie cose allora noi abbiamo bisogno di andiamo a vedere quante final star abbiamo bisogno abbiamo bisogno di una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici più una che sta qua questo cosa è che ora ah addirittura questo è l'ultimo oggetto che ci serve per quello raga aspetteremo un pochettino dai più allora va bene iniziamo giusto a farne una oggi dai quindi per farne una ci serve la bellezza di tre sei nove dodici di questi final star shard quindi raga final star shard dodici se state capendo tutti gli oggetti che ci vogliono madonna madonna netherstar 27 ne deve fare vabbè raga ci vediamo direttamente troppo raga devo essere sincero non mi aspettavo che fosse così rapida la cosa in realtà è stata molto molto veloce non più di tanto però ho aspettato 20 minuti una cosa del genere però contate che per farne una raga interagisce con non so 30 modi di 30 crafting diversi credo una cosa del genere quello che però voglio fare io ragazzi allora purtroppo l'indevium vuole tre cose quindi la fregatura dell'induction smelter è proprio questa che purtroppo prende tutti cioè non tutti per esempio per fare il brass prende il copper e se per caso deve fare il bronzo prende copper zinco e tin perché può prenderli effettivamente tutti quando mette il copper per primo lui bisogna un attimino dargli uno sguardo però essendo gli ultimi crafti raga possiamo anche fregarci in altamente le palle comunque noi ci servono 45 mechanical crafter allora noi ne abbiamo 24 però ne dobbiamo fare no no aspetta aspetta mechanical non ho voglia di fare però non so se ho abbastanza no non ho sicuramente abbastanza brass casing quindi dobbiamo fare un bel po' però vabbè per il momento mettiamo il crafting e poi chi si è visto si è visto logs prendiamo questi lascia ce l'ho stavo contando se ce l'avevo lascia ce l'avevo nell'inventario proprio subito subito ok non ce ne servono chissà quanti di brass casing quindi comunque un crafting da 3 come si dice 3 mechanical crafter quindi possiamo tranquillamente fare così bim andare a buttarli dentro e andare a richiedere ne ho 24 ma ne servono 21 ok craftiamo pure 21 mechanical crafter perfetto ora questi mechanical crafter io dovrei riuscire a sfruttare questa energia siccome comunque il crafting diciamo delle star l'abbiamo faccio qua faccio solo le star quindi la star ce l'abbiamo già dobbiamo semplicemente andare a fare 45 però scusa un attimo davvero un attimo sono 5 di base poi vabbè si è abbastanza facile 1 2 3 4 5 ok non so se basterà l'energia che produciamo da lì non ne ho idea raga bisognerebbe vedere allora coquel queste ci servono grazie andiamo di allora innanzitutto dobbiamo fare così no così vertical gearbox no in realtà mi servirebbe una gearbox normale allora craftiamone un paio tipo 60 qua ah non ho abbastanza vabbè 20 riesce a farne si ok perfetto giusto una vertical e poi una un'altra vertical messa in questo modo e poi no e poi gearbox normali qua possiamo fare così e così ok overstressed però presumo che sia per il fatto a 32 puoi andare madonna 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 allora non abbiamo bisogno di tante final star decido di non metterle in autocrati ragazzi perché comunque non ha senso però vabbè gli oggetti che comunque possiamo mettere di base li mettiamo ah ne possiamo mettere solo uno io pensavo che andasse a stack vabbè non fa niente ah alternalist fuel block facciamo 64 chi si è visto chi si è visto tanto gli MC comunque abbondiano molto bene possiamo buttare anche dentro dark matter dark matter ok attorno a tutte cose 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 e 3 semboso perfetto poi dopodiché dopo del tè anti matter pellet che non sono più problema e le star anti matter pellet vi ricordate quando ne avevamo tipo una di queste adesso ne abbiamo 4000 stack credo aspetta fai vedere non mi ricordo 2194 stack presumo che sia un numero abbastanza buono allora facciamo direttamente così andiamo a vedere come si crafta il ah ok negli angoli voi quindi qui voi l'anti matter cosa cazzo mi stai craftando è deficiente fermo ma adesso posso continuare a mettere gli oggetti non è che sperando me li prenda lo stesso gli oggetti se no li devo rimettere oppela riattacchiamo il cogwheel ok li prende lo stesso per fortuna allora dovrebbe oh merda ecc ecc alla che simpatico li devo rimettere li devo rimettere che simpatico che si allora facciamo così quindi abbiamo detto qua dark matter ok quindi adesso ci siamo possiamo mettere la cogwheel in questo modo e craftare la prima final star raga madonna quanto c'è voluto siamo alla ventitresima puntata se non sbaglio di questo bellissimo modpack perché no cazzo raga porca miseria ok quindi adesso dovremmo esserci per davvero non è neanche lento devo dire la verità va anche bene come velocità allora dovrebbe funzionare adesso e dovrebbero comunque collegarsi tutti quanti ok non ha ancora finito il crafting vediamo bim ed esce finalmente la final star raga la final star oddio 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 va bene ragazzi allora io chiudo la puntata qua ma in realtà possiamo fare per esempio il creative motto cioè possiamo anche farlo così un oggetto creativo al volo giusto a ferro buttiamo questo qui dentro e scriviamo creative motor facciamo così diciamo come craftare queste cose questo lo crafti così questo dovresti averlo e questo vabbè dovresti averle tutte quante facciamo così perché noi non abbiamo voglia di ovviamente fare nessun tipo di crafti start bin creative oddio motor via 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 allora dove lo mettiamo raga in realtà lo potrei mettere tranquillamente al posto di questo per andare a collegare comunque il tutto no tipo lo mettiamo così qua posso configurare sì 256 ok da lì poi vai a collegare il tutto ok vediamo se effettivamente però posso collegare tutto a tutto quanto nel senso allora andiamo a vedere shaft craftamnay 64 chiudiamo la puntata in bellezza ragazzi facciamo così qua direi di rimuovere il motore oh e quanto cazzo perché tu stai continuando a girare chi è che ti fa girare non ho capito ok va bene non mi interessa nemmeno saperlo allora se io dovessi tipo mettere una vertical qua e una coquel di là ok dovrebbe far girare tutto quanto ma possiamo anche collegare loro magari meglio ma tu generi se c'è la coquel qui sopra se non devi fare niente ok quindi stai andando alla massima velocità il che è bellissimo veramente molto bello perché sembro ah no lui c'ha gli esporter effettivamente c'ha anche ragione e ovviamente possiamo andare a collegare il tutto togliere tutto qua togliere tutto quanto andare a fare una vertical gearbox no ma effettivamente si allora vertical gearbox poi nel caso il giro non ci piaccia no giustamente che cazzo c'è il cavo ma giusto ragazzi ma vi pare strano che allora vertical gearbox perfetto poi andiamo a collegare tutto quanto facciamolo passare tranquillamente da sotto vediamo se gira nel verso giusto dovrebbe dovrebbe girare nel giusto ok perfetto sta girando nel verso giusto lo possiamo collegare anche a lui volendo glielo possiamo far passare da sotto volendo però questo vorrei fare tipo un sistema di controllo tipo magari facciamo una cosa del genere poi andiamo a togliere ovviamente la cogwheel però aspetta vertical gearbox grazie e lo facciamo passare da sotto bim bim shaft shaft dove stai? ok così in questo modo dovrebbe essere ok di qua facciamolo pure arrivare in questo modo ma no raga mechanical crafting a 256 questo a 256 adesso con creative motor veramente qualcosa di in realtà potremmo chiedere giusto per la prova una una star anche se lui ovviamente ci metterà tanto a craftare le cose voglio giusto vedere quant'è la velocità effettiva di crafting delle cose però in realtà dovrebbe essere ultra mega veloce questo e poi anche quello dovrebbe essere comunque molto rapida molto rapido il crafting va bene ragazzi io vi abbandono qua oggi abbiamo fatto un altro oggetto creativo ci manca veramente poco per finire il modpack ci mancano essenzialmente queste tre cose qua che poi comunque servono per fare il final power final power flower ovviamente secondo me converrebbe comunque fare degli autocrafting con mechanical crafter perché comunque sono dei crafting ridondanti ci penserò magari off camera a mettere l'autocrafting di quella cosa lì perché comunque ragazzi dobbiamo andare dietro con la branch dobbiamo dirvi che tipo faccio vedere una cosa allora questo in questo dobbiamo mettere assolutamente in questi spazi qua no scusate questi due dobbiamo mettere l'eternalist fuel qua dobbiamo mettere la singolarità poi qui dobbiamo mettere la dark matter e poi ovviamente gli altri sono singoli quindi diciamo che è un po' una rottura di coriandoli perché ci tocca ci tocca fare come si dice pezzo per pezzo cioè dobbiamo fare filtri per ogni cazzo di cosa ragazzi io vi saluto qua un po'